La scelta del semplice è il complesso, tanto come fenomeno naturale quanto come meccanismo del pensiero sta al centro dell'opera di Alighiero Boetti. Anch'io ho avuto una fase Alighiero Boetti. Sì, è proprio uguale. Ammirando le sue opere dal vivo si scopre Alighiero Boetti, già studiato sui libri nel periodo scolastico. Qui siamo a Roma. Boetti ha lavorato sempre su operazioni ossessive. Questo è uguale a te. Come la moltiplicazione, lo sdoppiamento, la disposizione simmetrica di elementi identici e standard. Interessanti sono i ricami fatti eseguire in Oriente da donne afghane come l'elenco dei mille fiumi più lunghi del mondo. Complessa opera d'arte realizzata insieme alla moglie e a un gruppo di geografi. Sugli arazzi si leggono anche frasi idiomatiche e mappe in cui la natura geologica si incrocia alla cultura politica. Ogni paese vi compare con i colori della sua bandiera. Viva la vita!